Musica Premio Use Art e Libri edizione 2018-2019 eccoci con il secondo romanzo in concorso scritto da Raffaella Bonsignori, avvocato ecco con noi l'autrice, Raffaella perché questo libro? Perché la magia del Natale io la vivo tutto l'anno, perché l'amo da quando sono piccola perché il romanticismo dei miei genitori me l'ha trasmessa, quindi l'ho bevuta nel DNA e quindi il paese del Natale da Dickens a Francapra fa parte della mia vita Questo libro ha una dedica particolare Raffaella, vero? È dedicato a chi ti ha insegnato la magia del Natale? Sì, a mio padre, mio padre con cui ho condiviso la magia del Natale che purtroppo se n'è andato due anni fa, ma chi è qui dentro? Raffaella, quando scrive un avvocato? Purtroppo nei ritagli di tempo, nel weekend, comunque appena può e poi scrivere comunque significa anche girare col registratore e cercare di cogliere tutto, di cogliere qualunque cosa capita nella vita si registra, poi magari si buttano giù appunti e poi nascono i romanzi, nascono i personaggi Raffaella, il tema di questa edizione è l'identità spirituale e sociogiuridica degli uomini di valore L'avvocato protagonista del tuo libro è un uomo di valore? È un uomo di valore che non sa di esserlo che pensa di poter svolgere la professione o vivere la vita camminando esclusivamente sui binari della professione nel modo forse più arido possibile, ma si accorge poi che non è così che la professione è qualcos'altro e quindi sì, direi che è un uomo di valore Questo non è il tuo primo romanzo, a che numero siamo arrivati? Dunque, siamo a tre libri non giuridici il primo sono una serie di racconti, racconti di crimini endofamiliari diciamo e il secondo invece è un saggio criminologico e storico è un'analisi dei vari delitti che si sono succeduti diciamo con la complicità del Tevere a Roma e sono, è fiume boiaccia, delitti e misteri romani sul Tevere vado da Elio Gabalo, dall'imperatore Elio Gabalo, ai giorni d'oggi Ricordiamo che Raffaella Bonsignore è un avvocato penalista, assistente di diritto penale ma ricordiamo anche che oltre a scrivere si è anche una buona intedrice di musica perché questo libro ha anche una colonna sonora Sì, la colonna sonora natalizia è inevitabile per chi ama il Natale, insomma le canzoni sono, quelle del Natale ci seguono sempre quindi sì, le ho disseminate nel testo e quindi in qualche modo ha una colonna sonora questo libro Senza fare spoiler sul libro, abbiamo un omicidio oppure un libro, una tranquilla routine di un tranquillo avvocato new yorkese? Nell'una nell'altra, cioè all'omicidio non ci arriviamo ma qualche piccolo crimine c'è sì, qualcosa c'è Allora buona lettura e buon concorso Allora buona notizia Allora buona notizia Allora buona notizia